Abbiamo la fortuna di parlare una bella lingua. Ma ne siamo certi? E che cosa significa parlare una bella lingua? Indubbiamente l'italiano viene connotato come una delle lingue più belle, più musicali che ci siano. Ma è una bella lingua? Allora, da un punto di vista squisitamente linguistico, lingue belle o brutte non esistono. Esiste la lingua comunicativa e lo scopo fondamentale di una lingua è quella di poter comunicare tutto, quasi tutto. Potenzialmente le lingue possono comunicare tutto. Talvolta online ci sono dei puristi ferocissimi che non solo perseguono una purezza che è un concetto astratto della lingua, ma si piccano di dire sempre e sostenere che la nostra è la lingua più bella, più sonora, più espressiva, eccetera. Nulla di più falso. Questo non vuol dire che l'italiano sia una lingua da rivedere o una lingua in sé brutta. Non usiamo termini belli o brutti parlando di una lingua. Parliamo di lingua espressiva o non espressiva. E sul non espressiva possiamo lasciare perdere subito perché le lingue, proprio perché sono, esprimono. E servono per esprimere. Sono uno dei tanti codici attraverso il quale noi ci possiamo esprimere. Il concetto di bellezza rientra nel discorso dell'estetica o del gusto personale. Ci sono lingue che suonano benissimo al mio orecchio. E questo non può essere preso come elemento di derimente. A me può piacere una lingua che per altri bella non è. Io posso essere incantato, ad esempio, dalle sonorità dolcissime della lingua russa. E lo sono. E qualcuno potrebbe dire sì, però, se hai sentito parlare qualche anno fa, stiamo parlando di decenni, un Brezhnev ti spaventi. Sì, è Pushkin? Quindi, la lingua non è in sé bella o brutta. La lingua è espressiva. A me può piacere o non piacere, ma non devo perdere d'occhio un concetto. È una mia idea, una mia scelta, è una mia valutazione.